Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video Oggi andrò a sfidare Stockfish livello 3 Quindi continuo la serie dove vado a sfidare Stockfish Ho deciso di sfidare tutti i livelli fino al livello 8 Però oggi giochiamo contro il livello 3 Si tratta del secondo episodio della serie E ho scelto di avere i pezzi bianchi Iniziamo Ha una forza di 1400 Come vedete Quindi Cosa giochiamo contro Stockfish a 1400? Io direi un bel gambetto Black Mardimer Se ce lo permette Quindi D4 Eh no, ha giocato E6 invece Ci vuole giocare praticamente la difesa francese E' incredibile perché ha giocato la francese anche a livello 1 A livello 2 sinceramente non mi ricordo Però ancora a livello 3 continua a giocare la francese Stockfish è innamorato della difesa francese Perfetto, giochiamo al fiere D3 allora Lui ha giocato C5 Interessante Vediamo in quale variante vuole entrare Proviamo a fare pedone per D5 No vabbè dai Stockfish Regala pedoni Anche a 1400 mi regala pedoni Perché fa questo Quindi ho già un pedone in più qua Ora mi aspetto pedone per E6 No 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 Ragazzi Cioè Attenzione Qui dice Stockfish livello 3 Che vale 1400 Però sta giocando molto simile a livello 1 Che sta facendo? Mi sta regalando tutto Cioè non è possibile che questo abbia una forza di 1400 Il 1400 non gli fanno questi errori Forse 1400 sull'Icess forse Ma neanche Ma dai Ma dai Ma guardate qua Cioè Questa sarà la partita più assurda in assoluto Della serie immagino Sta facendo mosse casuali Ha giocato A6 non serve a niente Cavolo H6 non serve a niente Cioè F7 in attacco qua Poteva anche fare alfiere per H6 Cioè questa era già finita praticamente no? Incredibile 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 Non ho parole Sta giocando malissimo Magari ora recupera eh Vediamo un attimo Perché ha aperto comunque il centro Quindi magari ora inizia a recuperare In qualche modo Qui proviamo a tenerci l'alfiere Perché minacciava l'alfiere in C4 Ora qui ha giocato cavallo E4 Io arrocco Metto il real sicuro Sono pronto a giocare torre 1 La mia posizione ha 0 debolezze Stockfish continua a sorprendermi Gioca donna D7 Errore mai più grave di questo Perché l'alfiere in C8 ormai Come fa a svilupparlo E' fermo E' bloccato Proviamo torre 1 Quindi inchiodiamo il cavallo E anche questo è un modo del tutto errato per difenderlo eh Perché posso giocare per esempio D5 Forse D5 non funziona Cosa fa lui su D5? Mi sa che gioca donna G6 Forzata Ma si io la faccio D5 Come fa a difenderlo? Secondo me me lo regala Non mi sorprenderei Ok donna G6 L'ha vista Continuiamo a mettere pressione allora sul cavallo Cavallo C3 Forse deve fare Alfiere F5 Ma figuriamoci Ma figuriamoci Ma figuriamoci Cavallo D7 Ma Stockfish Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ma cosa sta facendo con il real centro dopo 13 mosse? Non ha eseguito neanche le regole dello sviluppo Ai 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 Sarà bene chiudere velocemente questa partita ora Qui addirittura Alfiere F7 così Grandissimo Scacco No vabbè Gli ho regalato un pezzo Ragazzi Gli ho regalato un pezzo L'ho preso sotto gamba Va bene dai L'ho reso interessante perlomeno eh Incredibile Gli ho regalato un pezzo Oddio Però su Alfiere F4 che fa? Mossa geniale Alfiere F4 Poi vi devo dire Cosa penso sulle mosse geniali Riguardo chess.com Ma non in questo video Ok questa dai È completamente andata Non c'è D6 qua C'è D6 ragazzi Ho recuperato il pezzo Ho recuperato la partita Lui non può neanche arroccare L'altra volta ho riso talmente tanto Quando Stockfish mi ha messo la donna in presa Ma qui basta Non ridiamo più 1400 Prossimo livello Non so quanto avrà Forse 1600 1700 Ma mi sa che inizierà a giocare bene Penso Dai prossimi livelli Qui È disperato È disperato Stockfish Secondo me È disperato perché non può abbandonare Non è stato programmato per abbandonare Quindi Sta regalando tutti i pezzi Regala i pezzi come fossero caramelle Incredibile Dai abbandona Stockfish No Non l'ha abbandonato Non poteva Non può Ok Scacco nuovamente Checkmate Però ragazzi È allucinante questa cosa Allucinante Guardate qui Siamo alla terza mossa No Quarta mossa E mi regala un pedone Poi Gioca A6 Mossa incomprensibile Mi regala un altro pedone In E6 Poi Cavallo H6 Mossa incomprensibile Posso catturare in H6 Cioè Voglio dire Ma che è il modo di giocare a scacchi questo? Eppure questo sarebbe Il programma Più forte al mondo Praticamente Se non sbaglio Però Arriverà anche il suo momento Io penso Che a livello 7 8 Perderò Molto probabilmente A livello 6 Non lo so Non ci ho mai giocato A livello 6 Probabilmente Ci ho giocato solo a livello 7 Dove ho pattato Mentre a livello 8 Penso di perdere Perché è troppo forte A livello 8 Detto ciò Anche per questo episodio È tutto Grazie a tutti per la visione Ciao E alla prossima